Si aggiornano i numeri della pandemia in Puglia. Il bollettino epidemiologico odierno segnala 56 nuovi contagi e 4 decessi nelle ultime 24 ore. Circa 3.400 i tamponi effettuati, complice anche la giornata di domenica. Si conferma il trend positivo sull'andamento dei ricoveri, ancora con segno meno, sono 431 i pazienti covid che stanno ricevendo cure negli ospedali della regione. Numeri incoraggianti, anche sul fronte degli attualmente positivi, ad oggi circa 18.500, mentre i negativizzati continuano ad aumentare, superando quota 226.000 guariti dall'inizio della pandemia. Poco più di 18.000 sono coloro che si stanno curando a casa. L'incidenza settimanale della Puglia è ormai scesa, ben al di sotto dei 30 casi ogni 100.000 abitanti ed anche le singole province segnalano netti miglioramenti. Numeri che consentiranno il passaggio in zona bianca a partire dal lunedì prossimo. Entrando nello specifico della provincia Bat, il primo comune covid-free è dunque senza più casi attivi. E Minervino murge, come già annunciato ieri dalla sindaca alla Lamancini, mentre le province con più territori già covid-free sono il Foggiano e l'Eccese.